I RIS sono tornati a Pescara per analizzare le due autovetture in uso tra gli altri al cugino di Alessandro Neri Gaetano Lamaletto Junior che al momento risulta irreperibile assieme al padre e zio del 28enne trovato senza vita giovedì 8 marzo all'interno di Fosso Valle Lunga, la periferia sud di Pescara. Alessandro Neri infatti è stato freddato con due colpi di pistola, uno al fianco, l'altro alla testa e poi abbandonato in una zona poco frequentata ad un chilometro dal cimitero di San Silvestro. I carabinieri avevano sequestrato le due auto la scorsa settimana parcheggiandole all'interno della caserma di Via Lago di Borgiano, proprio in attesa del ritorno degli uomini della scientifica che avevano già passato al setaccio la 500 di Alessandro. I due SUV, una Mercedes GL ed un Audi Q7, sono stati prelevati dalla tenuta vinicola della famiglia Lamaletto Adorsogna, il primo, e dalla villa dei nonni di Alessandro a Giuliano Tatino, il secondo. Si cercano indizi che possano fare luce su un delitto che comunque resta avvolto nel mistero. Gli inquirenti, nella settimana appena trascorsa, si sono concentrati nella ricostruzione della vita familiare e delle amicizie di Alessandro, scavando nei rapporti interni alla famiglia materna e Lamaletto, e nei dissidi che sembrerebbero esserci stati proprio con il cugino Gaetano Junior, che sarebbe partito per l'estero poco prima del delitto. Interrogati più volte i genitori di Alessandro e i fratelli, che però vivono all'estero. Raccolte anche le testimonianze degli amici di Alessandro, molto legato anche a componenti dei Pescara Rangers, il tifo organizzato Biancazzurro. Intanto, nei giorni scorsi, come scrive il quotidiano Il Centro questa mattina, i carabinieri hanno recuperato dallo sfascio una Opel Meriva bruciata ai colli e appena demolita. Anche questa autovettura passa sotto la lente di ingrandimento della scientifica per capire se ci siano eventuali collegamenti con l'omicidio di Alessandro e per appurare se sia l'autovettura che segue la 500 rossa ripresa nelle immagini di videosorveglianza del centro città. Gli investigatori e la procura di Pescara per ora continuano a vagliare tutte le ipotesi. Anche se la pista privilegiata sembrerebbe quella che porta verso Gaetano Junior. Come detto di lui non si hanno notizie e nemmeno del padre Camillo, fratello della madre di Alessandro che gestisce l'azienda di famiglia Caracas. Un'assenza e un silenzio che stridono con il clamore mediatico che ha avuto questa vicenda non solo in Italia ma anche in Venezuela. Che sia questa la pista giusta per dare un volto e un nome all'assassino di Alessandro?